Aree verdi, pacchetti turistici, agricoltura e sociale. Sono questi i principali obiettivi individuati dal GAL Terre Aquilane per rimodulare interventi per un importo che supera i 3 milioni e 600 mila euro, cifra assegnata all'ente dalla Regione Abruzzo dopo la risoluzione dei problemi che avevano portato di fatto a un congelamento di tutto il sistema. E tra i comuni che potranno accedere a questi fondi ce ne sono ben 27 che riguardano il territorio marsicano. Tra essi troviamo anche Magliano, Scurcola, Tagliacozzo, Carsoli, Sante Maria, Oricola, Pereto e Rocca di Botte. Per quanto riguarda l'agricoltura rurale si mira a sostenere le produzioni tipiche dei luoghi, mentre per il sociale sono previste azioni a tutela dei soggetti più deboli. Inutile sottolineare che per le azioni che dovrà promuovere il GAL si tratta molto più che di una semplice boccata di ossigeno. E a questo proposito, come mostrano le immagini, ieri sera nella sala ex-Ars di Avezzano si è svolto un interessante convegno sulle azioni di sviluppo della cosiddetta Terra dei Marsi, azioni tutte finanziate dall'Unione Europea. All'evento erano presenti numerosi e qualificati esperti, insieme a diversi sindaci, rappresentanti di enti pubblici, associazioni, imprese e aziende agricole e turistiche del territorio. Tra le varie personalità, e considerato il tema trattato, non poteva mancare l'assessore regionale all'agricoltura, Dino Pepe, insieme al presidente del Consiglio regionale, Giuseppe di Pangrazio, ai consiglieri regionali Lorenzo Berardinetti e Maurizio Di Nicola e al nuovo presidente del GAL, Carlo Rossi. Ed è stato proprio quest'ultimo ad illustrare ai presenti il piano di interventi da 3.600.000 euro per i settori del turismo, agricoltura rurale, energie rinnovabili e innovazione tecnologica. Azioni previste quindi su più fronti, con particolare attenzione al turismo culturale, ambientale, religioso, archeologico ed enogastronomico. Il fiore all'occhiello sarà ovviamente rappresentato dai cunicoli di Claudio, recentemente fatti oggetto di attenzione anche da parte del Tg nazionale di Rai 1. Su questo specifico argomento, e senza dimenticare Alba Fucens, Carlo Rossi ha sottolineato che proprio il settore dell'archeologia può rappresentare un importante volano di crescita per l'economia turistica marsicana. Il GAL punta naturalmente a fare rete con tutte le realtà che operano nei comuni ricadenti nel perimetro di competenza. L'incontro di presentazione del piano di sviluppo locale, ha affermato Rossi, rappresenta solo un primo passo che successivamente darà il via a una intensa fase di consultazione del territorio e dei suoi enti, per creare sinergie e partenariati. L'obiettivo finale, ha proseguito il nuovo presidente del GAL, è quello di creare pacchetti turistici nei diversi segmenti e promuoverli sul mercato con operatori italiani e stranieri. L'azione del GAL sarà finalizzata a promuovere e a sostenere lo sviluppo e la commercializzazione delle produzioni tipiche di nicchia e per questo motivo il GAL è pronto a iniziare il lavoro per incentivare lo sviluppo turistico, per sostenere le realtà più deboli e per aiutare i processi di innovazione e di cooperazione. Per dare concretamente il via alla spesa, che è già in ritardo di anni, è necessario il via da parte della Regione, che dovrà informare gli interessati sui tempi e sulle modalità operative, al fine di dare ulteriore celerità al piano di sviluppo locale denominato Terra dei Marsi. Sulla manifestazione che ha suscitato notevole interesse, abbiamo raccolto i pareri del presidente del GAL, Carlo Rossi, e di quello del presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. Carlo Rossi, presidente del GAL, è finalmente iniziato a lavorare concretamente con fondi a disposizione? Sì, non proprio ancora concretamente, perché noi abbiamo dovuto risolvere alcuni problemi interni, l'abbiamo fatto bene con l'accordo di tutti i soci, abbiamo sottoscritto la Convenzione con la Regione, adesso noi siamo pronti, aspettiamo però che la Regione sblocchi effettivamente quei fondi necessari e per l'avvio della macchina interna del GAL, ma soprattutto per dare, per cominciare a dare risorse utili al territorio. Penso che ci voglia ancora poco, speriamo di abbreviare ulteriormente i tempi. Nell'incontro di oggi parlerete delle progettualità, mi sembra che sia importante per quanto riguarda lo sviluppo del territorio. Sì, assolutamente, noi abbiamo, il GAL ha fatto un piano di sviluppo locale concertato con tutto il territorio, con i soci, con le imprese, con i sindaci dei 27 comuni che fanno parte del territorio su cui insisterà l'azione del GAL. Si tratta soprattutto di, interventi rivolti al turismo, al turismo ambientale, esperienziale, al turismo, diciamo, che è quello caratteristico della nostra zona, all'agricoltura e al sociale. Ovviamente anche l'attuazione noi la vogliamo fare sentendo tutti gli attori e gli stakeholder del territorio e speriamo di fare un buon lavoro. Mi sembra che avete coinvolto tantissimi sindaci? Assolutamente sì, tutti e 27 comuni sono stati coinvolti nella fase di animazione e di preparazione del piano e così noi vogliamo coinvolgerli anche nella fase di attuazione. Ovviamente io sono entrato da poco insieme al nuovo Consiglio, il tempo di rivedere anche un po' tutte le progettualità che sono all'interno del piano e poi appena la Regione ci dà il via cominciare mano a mano a sviluppare i progetti, tenendo conto che è un piano pluriannale che comunque dobbiamo recuperare un po' il tempo che si è perduto ma ha una valenza nei prossimi 4-5 anni. Comunque le linee di intervento penso che siano abbastanza chiare e avete le idee soprattutto chiare? Assolutamente sì, come dicevo turismo, promozione delle produzioni tipiche locali, certamente noi non ci occuperemo dell'agricoltura intensiva del Fucino che ha il PSR e altri interventi ad hoc per questi ma noi cercheremo di valorizzare quelle che sono le microattività del territorio cercando di orientare anche l'azione verso la nascita di nuove imprese, soprattutto di giovani. Ci sono delle azioni proprio per la start-up dell'impresa, per le cooperative di comunità, per lo sviluppo del turismo nei nostri paesi e nei nostri borghi. Ci sono degli obiettivi che secondo te potrebbero essere prioritari? Assolutamente sì, io penso che il discorso del turismo esperienziale è legato e integrato con le produzioni tipiche, facendole ovviamente con le innovazioni che oggi ci sono, sia il futuro di questo territorio della Marsica. Noi dobbiamo puntare su questo, il territorio, la bellezza dei nostri paesaggi e dei nostri paesi ce lo permette, abbiamo queste risorse che unite insieme alle altre potrebbero veramente essere un volano per lo sviluppo della Marsica. Per far capire ai nostri spettatori parliamo di oltre 3 milioni? Sì, 3 milioni e 6 perché noi abbiamo anche dei comuni facenti parte delle aree interne quindi questo piano ha avuto una premialità di 600 mila euro. Ovviamente appena possibile cercheremo di dare conto mano a mano che il progetto si andrà a sviluppare e a calare sul territorio. Il concorso dei politici non ne hanno bisogno, soprattutto i sindaci, ma per i giovani imprenditori che hanno intenzione di intraprendere questo percorso? Allora, diciamo che il GAL, come dicevo prima, ha delle azioni per favorire la nascita di nuove imprese. Ovviamente per fare l'impresa ci sono degli altri strumenti, per esempio attualmente c'è il Bando Resto al Sud, ci sono interventi sia del Governo nazionale che della Regione. Il GAL fa delle azioni pilota, dei progetti dimostrativi che poi devono avere la possibilità magari di essere proseguiti, perché no, anche da parte dei giovani. Anche il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Mangrazia, è presente a questo importante incontro che guarda un po' lo sviluppo del territorio, finalmente possiamo dire. Sì, cade in un momento opportuno, così come Presenza del Consiglio insieme all'Assessuale l'Agricoltura, GAL Marsica, così io lo chiamo, abbiamo organizzato questo convegno, conferenza per dare l'informazione e per far capire che i tre GAL del sistema provinciale aquilano sono stati tutti e tre finanziati per circa 10 milioni e 800 mila euro. Sono tantissimi, soprattutto se legati questi ai 3 milioni e 250 mila euro che stanno arrivando sulle aree di crisi non complesse. Quindi il sistema aria interna della Marsica, rivitalizzato di nuovo, oggi con il Presidente del GAL, Carlo Rossi, illustreremo non solo tutti i progetti presentati per partecipare a questo bando importante che è stato finanziato, ma anche affiancati dall'Assessore Pepe, saremmo in grado di dare risposte anche sul punto di vista operativo. Perché dico sul punto di vista operativo? Perché l'obiettivo è, centrato l'obiettivo, mettere subito in essere finanziamenti relativamente a questi progetti e fare in modo tale che il territorio marsicano possa usufruire non solo di soldi ma lasciare il segno con occupazione in più. Questo è il nostro obiettivo. Per quanto riguarda i finanziamenti non sono ancora disponibili, però potrebbero essere una breve? No, i finanziamenti sono disponibili, la convenzione tra GAL, Marsica e Regione Abruzza è stata firmata circa 15 giorni fa, è stata firmata sulla scorta del bando che è stato aggiudicato, ripeto, dal GAL Marsica e gli altri due GAL della provincia abruzzese, uno sul versante della Valle Peligno e l'altro sul versante Aquilano, per i quali ci siamo battuti affinché su questo territorio fossero tutti e tre finanziati, ma facendo le cose per bene, insomma progettando e facendo una proposta alla Regione, recepita dall'ente regionale, ma soprattutto in una selezione molto rigida. Ciò che accade quando si fanno i bandi e si risponde in una maniera adeguata, quindi i soldi sono subito disponibili, adesso bisogna mettere in cantiere i progetti già presentati per i quali sono stati attitudini i finanziamenti per non ammontare, per quanto ci riguarda il territorio marsicano, di circa 3 milioni e 600 mila euro. Non è solo importante? Molto importante, perché questo vuol dire creare sviluppo, creare opportunità, portare a conoscenza di ciò che c'è sotto il punto di vista culturale, emergenze archeologiche, soprattutto le bellezze ambientali di cui gode il territorio marsicano, non solo per far venire qui gente da fuori Marsica, ma soprattutto per incrementare, valorizzare e quindi creare anche un po' il sistema occupazionale in questa nostra interna marsicana, che poi sono le terre alte, la montagna, dove noi stiamo conducendo una rivalza, ma non solo, anche attraverso il progetto Marsica, facendo capire che ci sono diverse cose che possono essere fatte e non solo con l'aiuto del finanziamento pubblico. Aiuto sui del finanziamento pubblico, ma cose credibili che lasciano il segno dell'occupazione. Presidente, il convegno si tiene nella sala Arsa, onore al merito, diciamo che se non era per il tuo intervento, difficilmente questa sede poteva essere resa disponibile, adesso anche potrà ospitare la sede di Vigilio Rubani di Avezzano, una conquista importante per la città. La scelta dell'amministrazione comunale, alla quale noi due anni fa, grazie alle sollecitazioni della loro amministrazione comunale, siamo riusciti a fare una convenzione tra giunti regionale, consiglio regionale e amministrazione comunale di Avezzano, dove il consiglio regionale ancora per qualche mese riesce a gestire questo complesso Parco Arsa-Palazzo Torlonia, mettendo dei soldi come consiglio regionale, il che vuol dire che non stanno tirando fuori soldi dall'amministrazione comunale e quindi indirettamente dai cittadini di Avezzano. Spero che l'amministrazione faccia capire qual è il suo intento per il futuro, io ad oggi so che è stato fatto il bando per la progettazione dalla vecchia amministrazione, è stato aggiudicato ad uno studio progettuale importante, mi auguro che presto rispetto ai 4 milioni e 700 mila euro messi anche sul masterplan per ristrutturare e restaurare questo sito importantissimo, venga fatta subito il bando di gara per l'affidamento dei lavori. Se ci sono delle difficoltà o dei chiarimenti che si vogliono chiedere, la presenza del consiglio è disponibile, figuriamoci, per la città di Avezzano da tre anni abbiamo tentato di fare delle cose che in passato mai erano state fatte, quindi grande disponibilità per lo sviluppo di questa città ma soprattutto per i cittadini di Avezzano del territorio marsicano. Ormai ci siamo sabato e domenica prossimi ad Avezzano, la palestra della vivenza, ci sarà il campionato italiano indoor master però bisogna sottolineare di hockey. Conferenza stampa di presentazione con Massimiliano Cabalvi che è l'organizzatore di questo evento, Roberto Serone che è un po' l'hockey di Avezzano ma questo l'abbiamo già detto e c'è anche l'assessore allo sport, Cati Alfonsi. Roberto, allora ci siamo, ormai penso che abbiate tutto pronto o no? Assolutamente sì, stiamo facendo ritocchi, gli alberghi sono stati impegnati dalle società, la palestra praticamente è pronta, ci siamo allenati, si sono allenati tutti quanti, quindi siamo pronti al via. Lo vedo tranquillo. Massimiliano Cabalvi, allora per organizzare questo evento qui in centro Italia a che cosa siete dovuti ricorrere? A qualche spediente particolare o avete trovato la strada spianata? Abbiamo avuto il supporto del gruppo che organizzava prima i master che è l'Agenza Italica, poi abbiamo avuto il supporto federale e quindi la visibilità sui social e anche sul sito. Siamo riusciti quindi a coinvolgere un gran numero di club, 15 club di cui alcuni vengono appunto da lontano, tipo Torino, Padova, Pisa, Messina, in particolar modo il Cus Messina di cui siamo veramente fieri della presenza e anche un gruppo di squadre di Roma, quindi siamo felicissimi di questo. Assessore, l'assessore centra in questo argomento al di là dei soliti saluti, dei soliti convenevoli perché c'è un progetto importante per ristrutturare il campo di hockey. Dacci le ultime novità. Le ultime novità è che abbiamo fatto questo bando 2017 sport e periferie proprio per il campo di hockey, un intervento mi sembra sui 650 mila euro dove c'è il fotovoltaico, quindi risparmio energetico, si rifarà il campo, si rifarà la strada forse finalmente ed è un progetto importante dove la federazione ci è stata molto vicina perché come ha accennato prima il vice sindaco qualche mese fa grazie a Roberto Serone siamo andati a parlare con il presidente nazionale dell'Hockey perché per loro Avezzano è un punto di riferimento importante per tutto il centro Italia e quindi diciamo che siamo stati incalzati anche da loro a presentare questo progetto e loro metteranno delle attenzioni ai fini della realizzazione, quindi siamo fiduciosi che venga veramente finanziato. Roberto, 15 squadre abbiamo detto, quanti maschi, quante femmine parteciperanno, quante parti ci saranno soprattutto? Sono 15 società, 25 squadre, queste squadre sono suddivise per categorie perché abbiamo detto sono più categorie, praticamente di preciso non so dirtelo ma stiamo intorno alle 160 presenze globali di cui almeno 40 femminili. Più gli accompagnatori? Ovviamente, più gli accompagnatori. Si parte da che età e fino a che età? Si parte da 40 anni e si arriva a 65. Insomma, vecchietti Arzilli ancora o no? Arzilli sì, anche perché l'over 40 tenete presente che ci sono ancora dei giocatori che giocano in prima divisione, quindi sono persone allenate, infatti l'over 40 è la massima partecipazione che abbiamo come categoria, però abbiamo anche l'over 60 e l'over 65 che andranno a fare i mondiali in Spagna a fine luglio, che sono anche allenati come ci saranno gli altri che andranno a fare sempre i mondiali a Terrasa, sempre vicino Barcellona, sempre fine luglio. Quindi l'attività è continua, c'è molto movimento dei master. Si continua a definire l'hockey come sport minore. Come se lo spiega che non riesce a decolare a livello di altre discipline che portano medaglie, portano prestigio anche alla nazione? Purtroppo noi abbiamo un problema di impiantistica. Noi abbiamo delle strutture che sono semplicemente dei campi, mentre a livello europeo il campo di hockey è inteso come centro di aggregazione, quindi ha una clubhouse, ha una possibilità di creare eventi continui. Tenete presente che Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna hanno uno sviluppo eccezionale dell'hockey e partecipano sempre ai mondiali d'olimpiadi. Noi ci stiamo affacciando adesso, come ho detto prima, con la nostra squadra femminile che sta andando ai mondiali a Londra. Per noi è una cosa fantastica perché è la prima volta dal 1973 che partecipiamo ai mondiali e poi potrebbero andare anche alle prossime olimpiadi. Quindi credo che con questo avremo una grossa visibilità. Per questo Avezzano diventa importante perché il Presidente la considera un polo dell'hockey, un punto di riferimento, e stiamo cercando di migliorare al massimo l'impiantistica proprio per avere massima adesione anche dai giovani. Per concludere, quindi col campo nuovo, con la struttura nuova avrete anche impegni maggiori? Sì, indubbiamente. Finalmente sono così un attimo di... sempre stato impegnato affinché effettivamente dalla parte della Federazione ci fosse più attenzione per la periferia e con l'attuale Presidente questo progetto si sta verificando. È chiaro che con una maggiore frequentazione e con una maggiore conoscenza, quindi una maggiore frequentazione del cosiddetto tra virgolette materiale umano sicuramente ci sarà un ulteriore sviluppo. La tenere presente è che comunque negli ultimi 40 anni appunto la società di Avezzano e le sue squadre hanno sempre partecipato ai campionati nazionali. Siamo sempre... siamo stati anche in A2, attualmente stiamo in B e principalmente abbiamo sempre curato l'attività giovanile. Appuntamento sabato mattina, si incomincia alle ore? 9. In Italia da sempre c'è l'abitudine, buona o cattiva, decidetelo voi, di criticare qualsiasi cosa si faccia. Parliamo della cosa pubblica, comuni, enti, lo Stato comunque in generale. Ci troviamo a Piazza d'Orlonia dove sono stati potati o tagliati diversi alberi, tantissimi alberi e appena qualcuno ha visto questa situazione subito ha cominciato a criticare. Il Comune sta mettendo sotto sopra questa bellissima Piazza d'Orlonia, questo polmone verde importante per Avezzano ma il Comune pare che invece abbia già messo degli alberi a dimora e non sono alberelli di pochi centimetri ma sono alberi già fatti. Siamo con l'assessore Crescenzo Presutti, le critiche vi sono arrivate e ti sono arrivate e anche tante e anche rumorose. La tua risposta? La mia risposta è in questa relazione che hanno redatto i tecnici incaricati dall'amministrazione, parliamo di due agronomi conosciuti in città anche perché sono insegnanti entrambi, uno all'Istituto Agrario, il professor Sgammotta e il professor Di Profio, i quali hanno fatto una VTA, così si chiama Visual Tree Assessment, cioè che sarebbe una verifica sulla stabilità delle alberature su ogni singolo albero di Piazza d'Orlonia, Villa d'Orlonia sarebbe più corretto definirla, è stata fatta questa verifica che è una verifica, la VTA è un metodo universalmente riconosciuto e quindi si pratica ovunque nel mondo, la inventò un famoso agronomo di Karlsruhe dell'Università tedesca, sì in Germania e quindi hanno riscontrato dei problemi seri nelle alberature presenti in questo splendido luogo, alberature che presentavano numerosi problemi di carie, di marcescenze che rendevano anche pericoloso, erano pericolose soprattutto per la collettività, per i numerosi cittadini che la frequentano. Infatti ogni tanto qualche ramo cadeva giù. Sì, abbiamo un po' la memoria corta sempre in questo posto, in generale in Italia, ci dimentichiamo ciò che è successo 15 giorni prima, un mese prima o qualche anno prima, negli ultimi tre anni, notizie che si possono rinvenire ovunque, sono caduti ben tre alberi qui, peraltro la fortuna è stata che non sono caduti in orari dove c'erano bambini o persone, spaccando persino panchine, quindi insomma era un problema serio. Questa verifica ci ha consentito appunto di stabilire quali era il grado di pericolosità delle alberature, ricordo a chi non sa, insomma comunque lo informo ai cittadini, che attraverso questa verifica che è prima visiva e poi strumentale vengono catalogati gli alberi e vengono inseriti in una determinata classe. Le classi sono A, B, C, C, D e D. La classe A rappresenta un albero sano, identifica un albero sano, mentre la classe D identifica alberi che non hanno esatto che erano da abbattere e ce ne sono stati segnalati una quarantina, perché? Pericolosi. Per le classi C, D, cioè quelle come dire borderline, si è scelto di intervenire seguendo appunto ciò che ci hanno suggerito gli agronomi, ciò che hanno consigliato gli agronomi, cioè di fare delle potature di contenimento per evitare soprattutto di eliminare tutte le carie. Contipo per esempio l'albero che è qui alle nostre spalle, potato in una maniera particolare, qualcuno magari avrà anche potuto criticare, dice mancherà l'ombra in estate, però insomma bisogna dare anche il tempo alla natura di fare il proprio corso. Allora intanto questo che mancherà l'ombra all'estate non è vero, cioè non sarà così, magari facciamo la prossima intervista ad agosto così vediamo come sarà la situazione. No ma è interessante quello che ci dicono i tecnici perché sulle cause di queste pericolosità degli alberi, i tecnici dicono che gli interventi drastici di potatura fatti negli anni passati sono la principale causa di decadimento degli alberi che appunto è da ricercare, leggo testualmente, negli interventi di potature del passato eseguite con tecniche di contenimento drastiche sullo sviluppo dell'apparato epigeo. In particolare le capitozzature, ed esempi di capitozzatura fatti male li vediamo nell'altra parte se poi andiamo a inquadrare, dove lì sono state eseguite le capitozzature, vediamo lì verso il benzinaio e quegli interventi lì hanno determinato appunto una situazione di successivo sviluppo anomano della pianta, dell'apparato radicale e quindi sono formate carie che hanno messo a rischio il pericolo della pianta. In questo esempio di albero vediamo che una delle branche è stata tagliata perché presentava delle carie nella parte superiore e quindi il rischio era statico, cioè di pericolo di crollo imminente. Alcuni alberi abbiamo quelli appunto in classe CD cercato di salvarli facendo degli interventi sempre suggeriti dai tecnici di contenimento e quindi cercando di salvare l'albero. Ma poi gli alberi hanno una vita, sono come noi gli alberi, hanno un inizio e una fine. Alcuni alberi hanno una durata maggiore, altri come i tigli non hanno una durata secolare. Ricordiamo che la villa è stata realizzata verso la fine dell'Ottocento e inizialmente si fece la villa partendo proprio delle alberature laterali e con i tigli. I tigli notoriamente durano dai 150 a 200 anni e questo dipende anche naturalmente dagli interventi antropici che vengono eseguiti. Se una pianta viene correttamente potata può durare di più anche 200 anni, in altri casi invece per effetto di interventi errati negli anni passati dura 100 o meno. Senti Avvocato, qui dietro a noi vediamo una fila di alberi. Che tipo di albero è e quanto tempo impiegherà per arrivare all'altezza di questi più anziani, più vecchi? Allora qui naturalmente abbiamo seguito il disegno originario. Questi sono tigli, sono gli stessi esemplari che sono presenti qui nella villa. Sono alberi già grandi come vedete, abbiamo scelto alberature intorno ai 30 cm di diametro dal fusto, quindi sono già alberi che hanno 7-8 anni e che nel giro di 2-3 anni raggiungeranno dimensioni tali da ombreggiare la villa. Però ricordo un'altra cosa, noi abbiamo in questo intervento necessario eseguito il taglio e l'abbattimento di circa 50 alberi perché poi in corso d'opera alcuni che erano in classe CD poi ad una più attenta verifica abbiamo dovuto richiamare i tecnici e che ci hanno consigliato a quel punto l'abbattimento di quelli che erano cosiddetti borderline. Ma negli anni passati nessuno si è accorto che ne erano stati tagliati circa 56. In questo immenso lavoro che abbiamo fin qui svolto abbiamo anche tolto i ceppi che erano presenti nella villa e di alberi mai più sostituiti. Ora io capisco che quando si taglia un albero non è una bella cosa, poi io insomma sono molto sensibile a certe tematiche, lo sapete. E tuttavia i cittadini dovrebbero indignarsi quando un albero viene tagliato e non viene messo un nuovo albero a dimora. Questa è una città giardino che ha 5.000 alberature e 300 sono state tolte, ne aveva 5.000 e 3 negli ultimi 10 anni senza essere mai state sostituite. Noi stiamo facendo anche ciò che non era stato fatto, abbiamo messo a dimora circa 100 nuovi alberi e nel giro di poco tempo già quest'estate troverete una villa splendida, comprati nuovi, siepi nuove, impianti di irrigazione funzionante, una fontana che finalmente funzionerà e non sarà più alimentata con acqua potabile, con acqua diretta ma con pozzi che stanno per essere realizzati e quest'estate avrete un giardino, la cittadinanza avrà un giardino bello come si conviene. Però il polmone verde di Avezzano diciamo che sta più a nord, la vecchia pineta, in che condizioni è? Lì vengono tagliati tanti alberi perché sono vecchi, perché stanno alla fine del loro ciclo vitale, ma per ripiantarli? Anche lì stiamo lavorando, stiamo studiando perché prima di fare un lavoro si studia e anche lì abbiamo fatto già numerosi sopralluoghi con i tecnici, con agronomi, quindi con persone che fanno questo mestiere, i quali hanno evidenziato una serie di problematicità alle quali intendiamo porre rimedio. Intanto anche la pineta che è uno dei luoghi più amati dai cittadini avezzanesi, numerosi alberi vanno abbattuti, numerosi alberi vanno abbattuti semplicemente perché pericolosi, anche lì come sapete si verificano con una certa frequenza crolli, perché il pino nero che è un pino, anche lì basta leggere i manuali che spiegano che cosa è un pino nero, qual è la sua longevità, dai 100 ai 150, massimo 200 anni. Anche lì per effetto del mancato diradamento nel corso dei decenni passati si stanno verificando questi fenomeni di decadimento e quindi la pineta va verso il suo ciclo vitale. Ora, proprio perché va verso il suo ciclo vitale, noi vogliamo farsi accompagnare verso la fine del ciclo vitale sostituendo progressivamente con nuove alberature. Alberature che però, questo è l'oggetto dello studio, probabilmente saranno alberature autoctone, quindi specie di alberi presenti nei nostri luoghi. e per questo aggiungo l'idea del vivaio della forestale che torna in possesso del comune e da lì spero che in futuro, in un immediato futuro, troveremo la possibilità di piantare 10.000 alberi l'anno, seminare 10.000 alberi l'anno e di distribuirle in questo nostro territorio anche agli altri comuni della Marsica. Grazie 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 Grazie